Sonia Bruganelli, nota opinionista televisiva, ha recentemente tenuto una diretta su Instagram che ha catturato l'attenzione dei suoi seguaci. Durante l'incontro si è presentata senza trucco e in tuta grigia, evocando un senso di déjà vu per i fan. Ha parlato delle sue esperienze passate in programmi come Il Grande Fratello e L'Isola dei Famosi, ammettendo di essere stata provocatoria e di non aver rimpianti, sebbene forse avrebbe potuto essere meno rude. Riguardo alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, Sonia ha raccontato di aver preso la decisione dopo aver parlato con Simona Ventura e Giovanni Terzi, convinta che sarebbe stata un'opportunità di crescita personale. Ha scherzato sul fatto che ballare aiuta a perdere peso più di quanto si creda. Tuttavia ha espresso rammarico per un commento inappropriato rivolto a Mariotto durante il programma, chiedendo scusa per la sua reazione provocatoria. Ha ammesso di non essere stata soddisfatta di sé stessa in quell'occasione e di aver reagito in modo sbagliato. Infine, Sonia ha concluso la diretta affrontando coloro che nutrono odio nei suoi confronti, preferendo ignorarli e squalificando chi sfrutta la fiducia altrui per trarne vantaggio. Con la sua sincerità e franchezza, Sonia Bruganelli ha dimostrato di essere pronta a riconoscere i propri errori e a crescere personalmente.